In definitiva un pareggio giusto, vediamo le immagini, le fasi salienti, in apertura Baresi scambia con Causio, Sabato blocca Martina, andiamo al gol, 22esimo, Baresi, Bergomi, vediamo come fa tutto da solo il difensore nerazzurro e batte Martina. 1-0 per l'Inter, qui Dossena poco prima del riposo invita Serena a un intervento e para Zenga. Secondo tempo, un'occasione ancora per il Torino, sulla respinta di Zenga, Junior ancora invita il portiere all'intervento. Qui il pareggio del Torino, rimessa laterale di Zaccarelli, Junior, Ferri e poi Serena aggancia bene e insacca di sinistro, così il Torino pareggia. Per la cronaca si sono avuti alcuni episodi da Moviola, Ammoniti, Slosa, Mandorlini, Serena e Galbiati. Ho concluso da Torino.